Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri bentrovati qui sul mio canale giovedì 25 gennaio a pensare male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca è il titolo del contenuto di quest'oggi che come sempre arriva nel tardo pomeriggio perché come vedete sono impegnato in una trasferta di lavoro ma ovviamente non posso esimermi dal commentare ciò che quel video di cui vi ho parlato ieri o meglio per il quale vi ho lasciato la mia opinione ci lascia in dote cioè a pensare male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube azionate la cappella delle notifiche e mettete un bel pollicione verso lato in fondo alla puntata sperando che questa sia stata di vostra compagnia allora io ve l'ho detto nel commento di ieri lo ribadisco se devo dare un giudizio spassionato su quello che è stato il contenuto espresso dalle iene trattasi di qualcosa di puro disservizio non di servizio trattasi di un qualcosa che non è informazione trattasi di un qualcosa che non è giornalistico ma che è soltanto ed esclusivamente un teatrino messo lì per creare hype per creare audience per fare un po di spettacolarizzazione perché se ci sono delle accuse così pesanti come quelle emerse da quel contenuto bisogna avere le palle di metterci la faccia e di mostrarti chi sei e perché lo fai e soprattutto se non hai nulla da nascondere molto probabilmente quell'accusa poi porterebbe a un qualcosa che ti tutelerebbe dinnanzi a quelle che invece sono le tue paure ma non sono giudice mi riferisco mi rimetto semplicemente al fatto che chiunque poteva essere dietro quel celarsi l'immagine camuffare la voce e allora è chiaro che come voleva si dimostrare al netto di quelle che sono i contenuti emersi da quel servizio mostrato da dalle Iene e non poteva che andare a finire come purtroppo purtroppo spesso è accaduto nei confronti della Juve e dei tifosi della Juventus ovviamente un servizio mirato a raccontarci alle faide interne intorno all'area arbitrale dove sono stati chiamati in causa diversi episodi tra arbitri e VAR che non tornano e che lasciano adito a tanti dubbi e guarda caso molti degli episodi citati vanno a coinvolgere la Juventus è ovvio che leggendo i commenti leggendo ciò che mi è arrivato anche sponda altri social beh non posso non rilasciarvi questa dichiarazione a pensare male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca a me non piace fare del complottismo non piace fare del vittimismo non mi piace ricondurre tutto alla classica chiacchiera da bar alla classica situazione che poi alla fine non porta nulla perché non è dimostrabile molto probabilmente quello che uno va ad insinuare però attenzione attenzione perché ci sono tante situazioni che certi ragionamenti mi portano a farli e credo che siano ulteriormente corroborati dal fatto che proprio guarda caso servizi come quello delle Iene poi sollevano perché non vi dico la innumerevole quantità tra messaggi e commenti nei quali ho percepito tifosi di altre squadre che sono venuti a punzecchiare in merito a quello che è stato riferito in quel contenuto cioè dei favori arbitrali attraverso l'utilizzo del varche di cui avrebbe goduto la Juventus ora siamo in un campionato dove io credo di poter dire che ben comprendendo che ci siano stati degli errori anche a favore della Juventus certamente non si può parlare di un campionato nel quale questi errori hanno comportato il fatto che la Juventus oggi sia in testa alla classifica sì c'è stato un errore molto probabilmente importante che è quello del fallo di Iling Junior in Juventus e Bologna che avrebbe sancito un calcio di rigore per il Bologna ma è altresì vero e l'ho detto un miliardo di volte che nella stessa partita molto probabilmente c'era un calcio di rigore a favore della Juventus per affossamento di chiesa ma si parla sempre solo di situazioni che vanno a diciamo vantaggio della Juventus e quindi poi attorno a quello ci si costruisce il castello si è costruito il castello per la smanacciata di Gatti per il fuorigioco peraltro ribadisco inesistente di Rabiot nel gol che ha portato la vittoria contro la Roma insomma tante situazioni che vanno a coinvolgere la Juventus e attraverso le quali il greggio si poi abbevera si alimenta e fomenta l'odio nei confronti della Juventus quando è certificato non per parole mie ma anche per parole dello stesso Rocchi anche agghiaccianti quando poi furono riferite perché ricorderete la frase il calcio di rigore non l'hanno sbagliato Nasca e l'arbitro che in questo momento mi sfugge di cui in questo momento mi sfugge il nome e quindi al di là di tutto furono ammessi degli errori chiari errori a favore dell'Inter ora è chiaro che in questo campionato nel quale in questo momento la Juve davanti l'Inter però ha una partita in meno e la certamente questo è certificato è tornata a far paura è tornata a far paura perché è una squadra compatta solida una squadra che ora addirittura anche iniziato a segnare e a vincere le partite non più di cortomuso quindi c'è una maggiore attenzione da parte un po di tutti dei media ma anche delle competitor su quella che è la pericolosità di questa squadra che non disputa le coppe e che ha trovato certamente un'identità una quadra molto importante attraverso il lavoro sviluppato da Massimiliano Allegri ecco che guarda caso si cerca di distogliere l'attenzione su ciò che è stato raccontato ripeto non dal sottoscritto ma dai vertici dell'AIA Gianluca Rocchi in primis su presunti evidenti favori che sono stati diciamo riservati all'Inter in alcune partite che non significa che con queste parole io voglia dire è un disegno scritto che si voglia far vincere l'Inter ma è evidente che se in una situazione del genere dove bisogna riconoscerlo come per tanti anni si è detto la Juve Ruba si sono fatte inchieste si sono fatti dossier sui favori arbitrali di cui avrebbe usufruito la Juventus e se si dice che in questa stagione l'Inter sta avendo dei favori importanti non ultimi anche quelli durante la finale di Supercoppa a Riad perché non sono ripeto io a dirlo avete avuto modo di leggere un po' tutti quanti ciò che è emerso dall'arbitraggio di Rapuano insomma è una stagione nella quale certamente l'Inter da quel punto di vista non può lamentarsi e guarda caso guarda caso viene fuori questo servizio dalle Iene nel quale si cerca di distogliere l'attenzione da una situazione per andare a evidenziare in una stagione nella quale lo ribadisco forse l'unico vero episodio importante che ha visto coinvolto la Juventus è quel calcio di rigore non assegnato al Bologna per evidenziare episodi che metterebbero in cattiva luce ancora una volta le vittorie della Juventus e allora a pensare male si fa peccato molto spesso ci sciazzecca è la classica frase che ti viene in mente quando si cerca veramente di distogliere l'attenzione su quella che è la realtà su quelle che sono i fatti reali accaduti e in conclusione voglio anche ricordare quanto detto da Gianluca Rocchi designatore degli arbitri ai propri arbitri nella giornata di ieri dopo quel infimo servizio o meglio disservizio mandato in onda dalle Iene lo ribadisco potevo essere io camuffato con sia con l'immagine che con la voce a raccontare quello che faceva comodo che fosse raccontato diciamola così non dividetevi e siate uomini non al retro di un centimetro fatelo anche voi è Gianluca Rocchi che parla alla squadra arbitrale vi prego di guardare chi vi è accanto e a voi e guardarlo come fosse un fratello anche se un fratello non lo è per me siete tutti innocenti e se esiste il personaggio col cappuccio e verrà da me e dirà che ha fatto una cazzata possiamo andare avanti in un modo solo mettiamoci tutti quanti insieme i coglioni ecco queste sono parole forti parole diciamo importanti di date delle dette pronunciate dal disegnatore degli arbitri Gianluca Rocchi che vanno nella direzione di cercare di tenere unita una classe arbitrale che da quel servizio certamente potrebbe uscirne sicuramente indebolita tra l'altro è stato raccontato che cinque arbitri sarebbero in procinto di sporgere denuncia per situazioni poco chiare all'interno della classe arbitrale ma al di là di questo ribadisco oltre a ciò che è stato detto sulla classe arbitrale sono stati chiamati in causa episodi che obiettivamente mi lasciano molto basito ma hanno evidentemente fatto il loro gioco hanno ottenuto l'effetto che forse qualcuno voleva far ottenere perché mi sono ritrovato una marea di messaggi e di commenti che ancora una volta mettono la Juve al centro della situazione la Juve ruba la Juve è avvantaggiata dalle decisioni degli arbitrali ditemi la vostra ci sentiamo presto come sempre fino alla fine forza Juve ciao